Se c'è una cosa che mi porterò con me di quest'estate, come di ogni estate, è il colore del mare. E l'acquarello ha questa capacità cristallina di interpretarlo. Qui abbiamo il blu oltremare e il verde smeraldo. Questi esercizi che io vi propongo, questi piccoli esercizi con l'acquarello, sono importanti, perché vedete le dosature sono essenziali. Qua io ho messo troppo verde, allora devo correggerlo con un poco di azzurro, per avere una tonalità decrescente che possa aiutarmi a conoscere meglio il colore, prima ancora di affrontare qualsiasi dipinto, come abbiamo sempre fatto. Appuntamento a sabato prossimo 26 con un dipinto ad olio e martedì 29 con una live a sorpresa.